Fiscianale, qualche giorno in più rispetto al solito per preparare una sfida delicatissima? Secondo me questi giorni in più sono molto importanti perché ci permette di affrontare la partita di domenica di lunedì con più determinazione e secondo me è molto importante. Bari, che non deve ingannare, ha una classifica diversa rispetto a quella che si vede perché ha 7 punti di penalizzazione e ha perso pochissimo fino al momento. No, il Bari è una squadra fortissima e soprattutto gli attacco sono ovviamente forti, però noi andiamo a Bari per vincerla e cerchiamo di far bene. Dionigi lamenta i gol dei suoi attaccanti che stanno mancando, un bottino che potrebbe essere per te e per gli altri sicuramente più cospicuo al cospetto di tante opportunità da rete che invece sono state fallite. L'importante è chiaro le occasioni e poi il gol arriva. È vero che stiamo sbellando un po' troppo, però con un po' di più di cattiveria ne possiamo fare molti di più. Regina penalizzata dalla decisione del giugno sportivo, la conseguenza di quella lista finale, è un problema dover rinunciare a così tanti calciatori? Secondo me siamo un gruppo forte con tanti giocatori bravi e penso che quelli che entreranno al posto loro possano fare benissimo. Grazie 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 Grazie